Andiamo a Matera tra le cinque città scelte per la presentazione del progetto nazionale Sicurezza Vera che vuole coinvolgere i pubblici esercizi come presidi di difesa della donna e promotori della cultura di genere. Ci racconta di più Eleonora Cesareo. Vera è il nome di una donna ma anche protezione nella lingua germanica. Una donna nuova e consapevole, pronta a sensibilizzare e promuovere la cultura di genere, il rispetto, la condivisione e l'inclusività. E si chiama proprio Sicurezza Vera, la campagna nata da un protocollo tra Fipe e Confcommercio, Federazione Italiana Pubblici Esercizi e Polizia di Stato per incrementare i livelli di sicurezza delle persone, sfruttando anche la presenza capillare di bar, ristoranti, pub e pizzerie, la più ampia rete di presidi territoriali, di cultura e socialità. Un modello che si vuole realizzare in tutta Italia partendo da cinque città campione, tra cui Matera, scelta in rappresentanza del Mezzogiorno. Diventare un tramite per diffondere maggiormente in maniera capillare la cultura di genere e di sensibilizzare la cultura del rispetto, accogliendo, nel caso ci fosse, della violenza in strada e quindi possibili clienti, ma anche andare a combattere tutte quelle linee che sono violenza sul nostro personale di servizio. Il progetto prevede iniziative di sensibilizzazione ma anche di formazione per essere pronti ad offrire supporto a chi ha bisogno di aiuto. Una sera è entrata una ragazza che si sentiva spaventata dal compagno che la stava seguendo. Non nascondo che non eravamo pronti ed è qui che nasce anche la nostra necessità di formazione all'interno delle attività. Abbiamo accompagnato la ragazza, ovviamente, lei non ha voluto chiamare le autorità perché spesso succede che manca un po' questo background culturale nel voler denunciare. Fondamentale diventa la collaborazione tra tutte le istituzioni. Benvenga un'iniziativa come questa in cui tutti si mettono in rete, naturalmente a seguito di formazione specifica e quindi possano costituire dei validi presidi di sicurezza e di legalità per poter veicolare queste donne alle forze dell'ordine, alla magistratura e alle istituzioni preposte.